professionalità con amore e dedizione. Le suore fanno inoltre servizioni da parrocchia, o meglio, delle sei parrocchie che sono affidate al parroco, per quanto riguarda la catechesi, l'animazione liturgica, la formazione a tutti i livelli, la visita e la cura dei malati. Le porte della casa sono sempre aperte, e l'incorto è l'accoglienza di ogni persona che si trova in qualunque necessità. Alcuni laici associati sono comunque vicini alla comunità e condividono la vita e la missione. Anche in diocesi le suore sono presenti al fianco dei vari sacerdoti nel lavoro di catechesi e fornitina e teologica. Ogni attività non rende senso, a confine l'annuncio di Cristo Signore della storia di ogni uomo, radicato nella Chiesa e di eseguire nel mondo, la comunità di ciascuna suora che segna la compassione di Cristo sull'esempio di Maria Vergine e la Pietà. La liturgia sarà rimanere alle suore dell'istituto, in celebra l'eucaristia Don Carlo Gronchi. Buon ascolto in comunione di Maria Vergine e la Maria Vergine. Buon ascolto in comunione di Maria Vergine e la Maria Vergine. Grazie a tutti. Buon ascolto in comunione di Maria Vergine e la Maria Vergine. Buon ascolto in comunione di Maria Vergine e la Maria Vergine. Grazie a tutti. 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 Gesù, perdona le nostre fonte, presentaci dal fondo dell'inferno, porta in cielo tutte le aree, specialmente le primi sentimosi della tua misericordia, nel cima della pace. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.